Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati nel consueto appuntamento con il riassunto della settimana con tutte e quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia parlando della nuovissima video recensione di Enrico a Camaglietta Bianca. Questa settimana Enrico ha fatto una video recensione su OpenSUSE nella sua ultima versione con KDE. KDE ha aggiornato anche l'ultima versione disponibile. Nel video Enrico va ad analizzare alcuni aspetti peculiari di questa listo come Yasti, il famoso tour che praticamente controllate tutto di questa listo. Andatevelo a vedere, andate magari a lasciare un commento sia sul video che nel post. Anche io ho realizzato una piccola video review per una listo un po' particolare. Sul suggerimento di Stefano ed Edoardo ho effettuato una video review su Red Star OS, la disto ufficiale della Corriere del Nord. Ebbene sì, la Corriere del Nord ha una disto ufficiale. Non ci ho capito una massa di questa distribuzione perché era scritto tutto in coreano del Nord. Poi andatevelo a vedere, ho realizzato anche i video, oltre che la recensione iscritta. C'è da dire però una cosa molto importante. Questa disto ha un installer che è migliore di tanti installers presenti su disto ben più blasonate. Passiamo ora all'ancolo degli eventi. Il 21 febbraio, presso il Dipartimento di Informatica dell'Università e degli Studi di Bari, si svolgerà il Firefox OS Workshop. Il primo evento dedicato a Firefox OS è organizzato da Mozilla. L'evento si comporrà in due parti. Una prima parte la mattina con un talk con alcuni personaggi di spicco della comunità Mozilla e Firefox OS. E il pomeriggio poi una sessione di programmazione. Se siete in zona, fateci un salto. Molto probabilmente, se riesco a liberarmi degli impegni, ci sarò anch'io. Non come membro dei talk, ma come spettatore. E quindi potete incontrarmi in 3D. Restando nel mondo Mozilla, questa settimana è stata rilasciata Firefox 27. Sia per desktop che per versione mobile. Novità principali di questo rilascio è principalmente l'aggiunta del supporto alla tecnologia SPDY versione 3.1 che è l'ultima versione del protocollo di rete sviluppato da Google che punta a realizzare, a velocizzare il caricamento delle pagine, ridurre la latenza e aumentare la sicurezza della navigazione. Dal mondo di Firefox OS arriva invece un piccolo video che mostra in azione lo Huawei Ascend Y302. Che cos'è? È il primo device della casa cinese equipaggiato con Firefox OS. Huawei è uno dei leader a livello mondiale nella produzione di smartphone, che è attualmente nel 2013 piazzato al terzo posto tra i produttori. Quindi la presenza di Huawei come promotore di Firefox OS non fa che ben sperare per la diffusione di questo sistema operativo. Speriamo che anche le prossime versioni di Firefox OS migliorino perché attualmente non è tanto il fatto che l'hardware non è all'altezza quanto il fatto che il sistema operativo è ancora giovane e non è ancora maturo e non è veloce come ci si aspetta da un sistema operativo dedicato a device di fascia bassa. Infine Mozilla ha annunciato la disponibilità della versione beta di Firefox Launcher per Android. Che cos'è? È un launcher per Android appunto. Diciamo è simile al launcher stock di Android che però ha alcune chicche, come alcune ricerche adattative e cose del genere. Attualmente la versione beta è disponibile soltanto per alcune nazioni quindi se accedete dal retailer sull'store non potete scaricarla. Comunque nel posto vi ho lasciato il link a una discussione su XDA dove è presente l'installer, la pick-up che potete scaricare e installare manualmente. Chi l'ha provato mi ha comunque detto che ha alcuni problemi di RAM ma perché ci c'è un pochettino troppo RAM. Io non ancora l'ho installato. Dal mondo Ubuntu Phone arriva un'altra notizia che fa mi ispirare per lo sviluppo e la diffusione futura di questo sistema operativo per smartphone di casa Canonical. Vodafone è entrato nell'Ubuntu Carrier Advisory Group. È praticamente un gruppo di partner che possono contribuire in maniera attiva nello sviluppo del sistema operativo. Staremo a vedere nel prossimo futuro cosa ci riserverà questa partnership. Ho poi pubblicato un piccolo post su Wubi.co che è una giovanissima start-up italiana che si è sviluppata nel corso dell'ultimo anno in California. L'azienda ha sviluppato un servizio che consente di realizzare dei biglietti da visita virtuali che è possibile scambiare facilmente tramite il proprio smartphone tramite un'email. Il servizio è interessante, è rivolto soprattutto all'utenza business. Andategli a dare un'occhiata, io mi sono registrato al servizio e l'idea è interessante appunto. Speriamo che questi ragazzi riescano ad emergere. Immancabile, o quasi. Il consueto riassunto da Montrobo il street map quasi perché dipende da Stefano se lo fa ogni settimana o ogni due. La comunità open street map è una comunità che, come ben sapete, ogni giorno si arricchisce di nuovi membri attivi. È una comunità molto attiva. Fateci un pensierino di iniziare a contribuire. È semplice. Raffaele, il mio amico, senza conoscere nulla, si è lanciato nel mondo open street map e in pochi giorni è riuscito a mappare tutto quanto il suo paese. Quindi è alla portata di tutti. Non che Raffaele sia deficiente, ma nel senso è alla portata di tutti, quindi basta poco. Nel post trovate anche una piccola mappa che mostra le piste e gli impianti di risalita del massiccio di Krasnava Proliana, praticamente Sochi, dove si stanno tenendo le Olimpiadi Invernali 2014. Dal mondo GNOME arrivano le notizie circa il possibile slittamento della versione stabile di GNOME 3.12 che potrebbe essere rimantata di uno o due settimane per includere il supporto preliminare ad alcune tecnologie che verranno implementate su Wireland 1.5 che verrà rilasciato questa è una prima preview all'inizio di aprile, quindi slittera di conseguenza creare. Dal mondo Debian arriva la non scelta dell'init system. Il Debian Technical Committee ha votato per scegliere quale sarà il sistema di init per Jesse, la nuova versione stabile della distro che attualmente invia di sviluppo. Dopo una lunga ed estenuante discussione si è deciso di non decidere, si è deciso praticamente di protrarre questa discussione e spostare a data e a destinarsi perché ci sono state sollevate alcune obiezioni, alcuni dicono da membri malintenzionati perché sono comunque sviluppatori anche Ubuntu quindi che spingono per upstart vabbè, polemiche a parte comunque Debian ha deciso di slittare la decisione a data e a destinarsi. Dal mondo Debian arriva anche una notizia fresca fresca pubblicata questa mattina di un tentativo da parte di alcuni utenti di fingersi sviluppatori di Debian per poter ottenere i giochi gratuiti su Steam. Come ben sapete Valve ha premiato i developers di Debian regalandogli la disponibilità di accedere gratuitamente a tutti i parco giochi presenti su Steam e tutti i giochi presenti passati e futuri. È un modo che per premiare tutti quei sviluppatori che contribuiscono a Debian che è la base di Steam OS. Dal mondo delle derivate di Debian arriva la scelta del nome in codice della prossima versione di Tanglu. Tanglu che come ben sapete verrà rilasciata in pianta stabile la prima versione stabile questo mese. I sviluppatori si sono portati avanti e hanno votato per il nome della prossima race 2 che non si sa quando uscirà si chiamerà comunque Bartormea Nugata che dovrebbe essere una nemo né di mare una cosa del genere l'ultima notizia della settimana in cui voglio parlare è il rilascio da parte di DraftSouth Systems di DraftSigd versione 1 R5.0 e questa nuova versione di DraftSigd come ben sapete è un CAD gratuito multipiattaforma disponibile nativamente per Linux ecco perché ve ne parlo questa nuova versione oltre ai consueti di change log di correzioni di bug e quant'altro aggiunge per la versione Linux il supporto ai gesti del mouse poca cosa però comunque lo sviluppo sta andando avanti se avete bisogno di un CAD professionale questa è l'unica scelta nel mondo in mondo Linux bene con questo concluso ci vediamo la prossima settimana salvo qualche video intermedio lunga vita e prosperità a tutti quanti e mi raccomando condividete il video charatelo in ogni dove in ogni luogo in ogni mare in ogni charatelo insomma perché come dice Caverna di Platone condividere non è peccato quindi non peccate se lo condividete salve a tutti ciao ciao grazie a tutti